Ciao ragazzi, bentornati su MacMayan.com Vi avevo raccontato in precedenti episodi che ho un secondo link affiliazione con un altro brand altro brand a cui avevo detto che non mi interessavano batterie per l'accumulo fotovoltaico in quanto ero già a posto e non aveva senso che me ne spedissero dei campioni però hanno altri tipi di batterie hanno sistemi di accumulo già pronti all'uso e hanno anche batterie per uso più da smanettoni quindi per fare circuiti, per creare pacchi batterie che poi potete utilizzare per i vostri progetti che siano dei robot tagliaerba piuttosto che dei sensori sparsi per il mondo non ha grossa importanza vi faccio vedere quindi i campioni che mi sono fatto inviare vi faccio vedere a titolo di esempio quella che è una normale batteria ricaricabile al nickel in confronto alla 18650 vedete che la 18650 è decisamente più lunga e decisamente più grossa il nome 18650 deriva dal calibro che è 18 mm 6,50 è la lunghezza che quindi sono 65 mm quindi 18650 questa qua sono batterie al litio ovviamente ricaricabili io però me ne sono fatto mandare un tipo diverso che non ho mai provato in vita mia che sono queste qua, le 26 6,50 quindi 6,50 è sempre la stessa lunghezza però il calibro invece di essere 18 mm è da 26 mm se le guardiamo vicine vedete che c'è una notevole differenza sono ben più grosse quindi sono delle belle bestie guardatele in confronto alla mia mano quanto sono grandi quindi adesso andremo a ricaricare queste batterie perché io le ho misurate e la cosa positiva è che sono già calibrate perché sono bilanciate nel senso che se noi misuriamo vediamo se riesco a farvelo vedere col tester abbiate un attimo di pazienza che mi cade tutto qua vediamo se si vede il valore così lo potete vedere anche se è girato ma non importa ne ho 4 e vedete che sono 3,215 3,215 3,215 e l'ultima è 3,215 16 quindi sono perfettamente bilanciate questo significa che potrei creare un pacco batterie direttamente senza fare altro però queste batterie le voglio testare perché questa è una sorta di recensione le voglio provare assieme a voi voglio capire se la capacità dichiarata è quella reale qua è scritto 3500 mAh andiamo a vedere se è reale quindi adesso le vado a caricare con il caricabatterie ho quello per 18,650 ovviamente non ci stanno in larghezza però in lunghezza si quindi vi faccio vedere la batteria qui dentro occupo più spazio in laterale non me ne staranno 4 me ne staranno solo 2 ma riuscirò a caricarle quindi vado a fare la carica di tutte e 4 le batterie e poi le andiamo a testare con quell'aggeggio che vi ho mostrato nello scorso video sull'impianto fotovoltaico che è questo qui con questo aggeggio qua noi abbiamo lo slot già pronto imposterò una potenza costante di scarica e vediamo quanto quanto tengono quindi andremo a testarle e poi vediamo come va allora abbiamo caricato le le quattro celle che mi sono arrivate in omaggio e adesso andiamo a vedere come come vanno iniziamo i test di scarica le ho numerate in questo modo banalmente con il nostro carta ho messo un numero perché altrimenti poi non riesco a riconoscerle ho già misurato la loro tensione ho fatto uno schemino ripetitivo qua e la differenza è minima abbiamo 3,392 volt 3,399 3,378 l'ultima è leggermente più alta 3,407 però è l'ultima che ho ricaricato quindi potrebbe avere una tensione ancora alterata dal fatto che è stata ricaricata da poco e da poche ore è finita la ricarica e adesso cominciamo con il test di scarica ovviamente intanto non dobbiamo sbagliare la polarità vi faccio vedere come sono fatte la parte negativa è completamente piatta la parte positiva è questa specie di piccolo castello ok non viene in fuori come le classiche batterie vedete che non c'è nulla l'acqua è sempre piatta però c'è questa specie di piccolo castello quindi noi andiamo a riporre la prima cella la numero 1 nell'alloggiamento ok questo ovviamente serve solo semplificare l'alloggiamento delle batterie questo kit extra non è certo indispensabile però mi agevola la cosa ora andremo a fare un test a potenza costante CP Costant Power e pensavo di mettere mezzo watt quindi un consumo costante di mezzo watt che impostiamo qui in questo modo abbiamo una potenza costante durante tutta la scarica che non è molto alta ok e andiamo a vedere come si comporta la batteria quindi mettiamo mezzo watt scusate sono già partito per ora col test e poi volevo inserire però e dai non mi ricordo come funziona l'ho usato una volta sola adesso torniamo allora 05 scusate perché corrente costante tempo di scarica uguale ecco e metto una tensione di 3 punto vedete qua il blu da un po' fastidio alla camera ma metto 3,1 volt e la tensione di cut off quindi quando arriviamo a quel punto si spegnerà tutto io faccio partire il test ok è partito e adesso vedete i i vari i vari dati quindi abbiamo la tensione istantanea 3,363 volt abbiamo la corrente di assorbimento 150 miliampere i watt la resistenza interna c'è la temperatura vi faccio notare che sono 7 gradi qua è veramente freddino anzi probabilmente segna anche più del dovuto perché sono io qua vicino ho anche il termistore da mettere eventualmente sulla batteria glielo mettiamo nel caso di di surriscaldamento ci permette di 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 bloccare la la scarica quindi lo metto lì se c'è qualche problema lui può intervenire dubito che vada fuori temperatura con questo freddo comunque adesso lasciamo il il test e dopodiché riporterò tutti i dati quando ho finito di scaricare tutte le quattro celle vi faccio riassunto di come è andata e poi andiamo avanti perché creeremo un pacco batterie e poi volevo fare un test su una domanda che mi è stata fatta sul bilanciamento delle celle al litio quindi ci vediamo dopo bene abbiamo completato di scaricare l'ultima cella vi ho fatto qua uno uno schemino riassuntivo che vi riporto adesso sullo schermo così è più facile da leggere e scaricando quindi con mezzo watt queste batterie ho avuto una scarica diciamo completa tra le 19 e le 20 21 ore la capacità si è attestata tra i 2009 37 e i 3257 miliampere ora da notarsi però che la tensione a riposo delle celle 2 e 3 è un po' più alta e quindi è vero che mi ha dato una capacità leggermente inferiore ma la tensione a fine scarica è più alta quindi in realtà è rimasto dentro qualcosa inoltre vedete che la tensione di riposo è compresa tra i 3 2 15 e 3 anzi 3 2 13 e 3 2 52 quindi in realtà si poteva scaricare ancora un po' io tengo sempre a non andare troppo sotto con la tensione perché poi si rischia di rovinarle quindi possiamo dire che i 3500 ampere che sono dichiarati più o meno ci siamo anche perché qua siamo in condizioni veramente di freddo ci sono 6 gradi qua dentro e le condizioni non sono certo ideali quindi direi che questo test è andato a buon fine sono abbastanza soddisfatto adesso volevo caricare una sola batteria o due diciamo due non lo so perché un utente mi diceva che nel bilanciamento delle celle lui le metteva in parallelo per bilanciarle io gli ho detto che questa cosa non è possibile perché non c'è una tensione sufficiente per farlo volevo provare praticamente fare questa prova così ci togliamo ogni dubbio vediamo se la teoria corrisponde alla realtà quindi adesso andrò a caricare non lo so se una cella due celle facciamo una sola poi le metto in parallelo e vedo cosa succede alle tensioni quindi adesso vado a fare questa cosa e ci rivediamo dopo per il test ecco allora ho caricato la cella numero 4 che è questa qui andiamo a misurare la tensione che è di 3,455 quindi la vado a scrivere 3,455 mentre la tensione vediamo se riesco a farvela anche vedere magari così si vede qualcosa la cella numero 1 è 3,212 quindi 3,212 adesso le metto in parallelo in parallelo quindi farò un corto sia sul polo negativo che sul polo positivo e vediamo se c'è un bilanciamento di carica secondo me secondo me non dovrebbe funzionare perché in via del tutto teorica quindi adesso scopriremo se è vero la tensione che permette il passaggio di cariche elettriche è più alto di quello che è la tensione massima di una cella potrebbe essere che una piccola percentuale riesca a spostarsi perché una batteria è comunque completamente carica l'altra completamente scarica ma secondo me sarà una cosa molto limitata e non permetterà un bilanciamento delle celle adesso le metto appunto in in parallelo e vediamo magari fra un paio di giorni come è cambiata la tensione e continuiamo questo video anzi vi faccio anche vedere l'accrocchio che ho fatto per mettere le batterie in parallelo vedete che ho messo dei bulloni ai poli sia positivi che negativi con delle piastre metalliche ovviamente col tester ho controllato che ci fosse la conduzione quindi adesso le lascio lì un paio di giorni e poi vediamo se è cambiato qualcosa allora sono passate circa 36 ore più o meno e voglio fare un test della pensione per vedere a che punto siamo e mi sono dimenticato però di dirvi una cosa che la cella numero 4 quella più carica che è questa qui che corrisponde a questa era caricata da poche ore sia no da un'ora che l'avevo caricata quindi probabilmente la tensione non era perfettamente a riposo quando l'ho calcolata e potrebbe scendere un pochino questo è una cosa che mi aspetto e mi sono dimenticato di dirvelo è che avevo fretta di andare avanti con i test perché sono qua veramente questo video non finisce più tenete conto che per ogni batteria mi sono andate 20 ore solo per attendere la scarica quindi potete solo fare due calcoli di quanto tempo ci voglia allora qui abbiamo abbiamo 3,212 ed è perfettamente identica a quello che era prima 3,212 quindi non si è caricata assolutamente niente e l'altra è 3,4 preciso era 3,455 quindi una leggera un leggero calo di tensione c'è stato era un leggero calo di tensione che appunto non si non si è tramutato nella carica dell'altra cella come mi immaginavo perché la chimica del litio è fatta così se non avete una tensione di carica sufficientemente alta non c'è trasferimento di carica o comunque molto blando andiamo avanti ancora un paio di giorni giusto per essere sicuri però direi che il test è già arrivato alla fine comunque dato che ci sono tanti scettici andiamo ancora avanti allora è passata ancora tutto il pomeriggio e la notte quindi altre 10-12 ore andiamo a misurare la tensione e abbiamo la cella numero non so se riesce a vedere magari dalla cella numero 1 3,212 esattamente identica ieri quindi non ha caricato niente e la cella numero 4 3,401 praticamente identica a ieri quindi conclusione le celle al litio non si bilanciano da sole senza una carica esterna questo è quello che avevo detto sin dall'inizio ve lo confermo e adesso andiamo alla parte clou di questo video ossia utilizziamo queste batterie io avevo un'idea che purtroppo però non posso realizzare perché 4 celle non me ne faccio niente io speravo me ne mandassero di più ma ovviamente non le ho pagate non posso pretendere miracoli io ho ottenuto delle vecchie batterie al piombo tipo queste le vedete queste qua sono batterie al piombo che ormai non caricano più niente e sarebbero da buttare via come ce ne ho una lassù vedete che qua non si butta via niente e volevo trasformarla in batterie al litio purtroppo però il numero di celle non mi basta queste quindi andranno bene come test ma non sono sufficienti per fare quel tipo di lavoro quindi creerò un pacco batterie piccolino quindi facciamo un power bank con quello che abbiamo ho già comprato i bms magari dopo adesso andiamo in laboratorio ve li mostro e quindi andiamo a montare questo pacco batterie vi dico subito che non farò le saldature a punti perché uno non ho la saldatrice apposita e due non l'ho comprata perché per solo 4 celle non aveva senso quindi ho comunque le barre in nickel le andiamo a stagnare come farebbe chiunque e casomai se prendesse piede anche questo tipo di utilizzo di batterie potremmo pensare di acquistare la saldatrice o costruircela insomma per adesso andiamo avanti così in modo molto grezzo andiamo in laboratorio e proseguiamo allora ho caricato ovviamente le batterie in modo che adesso siano più o meno tutte allo stesso voltaggio e adesso quello che andremo a fare è creare due celle ossia due pacchi batterie con due celle ognuno quindi uno così uno cosà questi saranno in serie quindi porteranno la tensione dai 3,2 ai 6,4 volt nominali ognuno avrà un piccolo bms ho preso questi bms qua questi qua hanno la possibilità di bilanciare le celle quindi avranno un polo che finisce in mezzo alle due in modo da fare il bilanciamento quindi un bms per ogni cella quindi uno di qua e uno di là dopodiché collegherò devo decidere ancora quale ho comprato questi chiamiamoli regolatori di carica ne ho due vedete che hanno le varie prese usb questo qua è più carino perché ha anche la presa usb di tipo c mentre questo ha il display che ci mostra la carica residua però non ha la porta usb di tipo c vedete che ha solo il micro usb però ho comprato anche questi che sono banalmente delle porte usb per trasferire alimentazione in realtà anche i dati ma quelli non interessano e quindi potrei utilizzare l'accoppiata di questi due devo ancora decidere cosa fare ma intanto iniziamo a fare a fare le celle a collegarle con la barra di niquel iniziamo a fare le cose 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 a quanto pare non attacca una mazza sapete che io ho tanta pazienza non ce l'ho potrei in questo caso banalmente andare a grattugiare un po' la superficie per renderla più porosa e quindi far aderire meglio lo stagno io ho tutta questa pazienza non ce l'ho e ho fretta di andare avanti con questo video perché ho un sacco di cose da fare quindi ho comprato questa direttamente è una piccola stazione a batteria per fare saldature a punti è molto semplice costa una settantina di euro una cosa del genere l'ho presa su amazon ha i due puntali qua vedete c'è un piccolo display ci permette di settare otto livelli differenti di potenza non so se riesco a inquadrarvelo comunque con questo tasto si cambia la 4 5 6 7 8 e poi ritorna a 1 adesso l'ho impostato a 2 c'è un delay di mezzo secondo adesso vediamo come funziona non l'ho ancora provata l'ho solo caricata l'interfaccia tra l'altro un usb c poi vedo che c'è un'uscita un'uscita usb tipo a quindi probabilmente può funzionare anche da battery pack visto che questo comunque ha una batteria interna lo proverò adesso ciò che mi interessa è andare avanti con questo lavoro quindi riposiziono qua la telecamera e vediamo cosa succede riprovando lo stesso identico lavoro ma con un'attrezzatura più adatta so che avevo promesso di fare una cosa semplice poi alla fine come sempre vado a cambiare i progetti iniziali comunque se io ci piglio i due cosi qua i due cosi ci metto qua il tra l'altro è tagliata da schifo aspettate un attimino che tagliamo meglio questa cosa indecente tra l'altro con questo oltre a oltre a avermi dato il vero e proprio la saldatrice c'è anche questa raspetta per grattugiare via eventuali residui di stagno c'era il nickel eccolo qua ce n'è anche abbastanza devo dire che ce n'è più qua di quello che avevo comprato io e c'è anche il cavo usb di tipo c quindi diciamo che è completa l'uso vi serve solo un alimentatore per caricarla non serve altro tra l'altro era praticamente carica quindi non ho dovuto fare nulla di particolare adesso proviamo dovrei attendere mezzo secondo vedi l'ha già fatto perfetto ottimo cavoli vediamo se riesco a mostrarvi c'è un riflesso terribile però penso che si veda vediamo se direi che non la stacca più neanche il padre eterno ottimo direi che ha fatto un ottimo lavoro non me lo aspettavo funziona veramente bene funziona da dio come si suol dire non mi aspettavo una cosa del genere ma funziona veramente bene ragazzi quindi in due secondi ho fatto la saldatura adesso faccio l'altra tanto ci mettiamo veramente pochissimo era incerto perché come potete immaginare ci sono un sacco di cinesate in giro questa l'ho presa un po' un po' a caso non è la più economica ce ne sono di ben più economiche ma la maggior parte aveva bisogno o di una batteria esterna ma allora avrei dovuto prendere la batteria al piombo che ho di so per sganciarla dal resto dell'impianto insomma mi avrebbe complicato la vita questa qua è a batteria meglio di così e portatile posso portarmela in giro dove voglio e la sorpresa è che funziona davvero benissimo davvero benissimo ragazzi queste qua sono salde non si staccano sto facendo molta forza ovviamente non si vede dalla dalla camera ma vi assicuro che sto facendo molta forza quindi i pacchi i pacchi in serie sono pronti adesso dovrei misurare misuriamo la tensione giusto per sicurezza ve la dico io perché il multimetro sta tenendo sulla telecamera perché ho rotto ho rotto il supportino che utilizzavo per tenerla su allora dovremmo essere 3.2 per 2 quindi 6.4 come minimo infatti così non possiamo misurarla sono 6.73 quindi diciamo che la cosa ha funzionato abbiamo i due pacchi i due pacchetti da 6 volt adesso dobbiamo montare il BMS e poi vediamo come si comporta questo questo piccolo pacco batterie allora visto che c'ero ho collegato anche i poli positivi negativi così il pacco batteria è pronto l'ho anche nastrato così è bello stabile adesso andiamo a metterci il BMS che è questo qua questo è un BMS a due celle vi faccio vedere vediamo prendo questo vi faccio vedere non so se riuscite a notare casomai metto un'immagine in sovraimpressione se non se non si vede ci sono i due questi due sono i poli per la batteria c'è scritto B più e B meno quindi non è difficile da capire qua c'è il P più e il P meno che sono i due i due pin che andranno poi alle uscite verso l'esterno e questo qua è il BM che va sempre alla batteria e va nel punto intermedio della cella quindi qua tra una batteria e l'altra per spiegarvi meglio adesso prendiamo uno dei due pacchi quello che vogliamo vedete che ci sono uno e questo questo qui queste due qui e l'altro e questo qua ok quindi il dobbiamo mettere i poli per le batterie il B più e il B meno andranno qua il B più e il B meno e l'altro quello intermedio andrà qui e servirà a bilanciare le due celle ovviamente ne andrà uno su queste due e un altro su queste qua adesso vado a fare i collegamenti rapidamente spero rapidamente perché se lo stagno non tiene mi toccherà anche qua fare una saldatura diretta del filo sulle batterie adesso lo vado a installare così vediamo come va allora breve interruzione dal futuro perché nel proseguio di questo video ho fatto degli errori preferisco dirvelo adesso così magari non seguite la lettera quello che dirò nel senso che non mi ero accorto che i componenti che io ho acquistato non erano poi compatibili con la tensione delle due celle se io mettevo i 6.4 pol nominali i componenti che avevo non funzionavano correttamente ossia il BMS era compatibile con quella tensione ma poi i due i due i due come si chiamano questi BMS chiamateli come volete con le porte con le porte USB integrate non funzionavano con quelle tensioni quindi ho dovuto ho fatto un po' di errori ho dovuto riprogettare il tutto però volevo lasciarvi comunque la testimonianza di quello che ho fatto in modo che che non facciate anche voi gli stessi errori io preferisco comunque lasciare le cose come le ho fatte non voglio fare tagli perché non sarebbe neanche corretto nei vostri confronti mostrare sempre le cose che funzionano al primo colpo non ha nessun senso è giusto che vediate anche gli errori che ho fatto così non li ripeterete anche voi detto questo possiamo proseguire col video allora ho montato i due BMS come potete vedere ci sono i due i poli positivi e negativi che vanno rispettivamente sui più e meno dei due BMS e il polo intermedio che va dall'altra parte adesso qui dovremo collegare su questi pin vedete dove c'è P- e P- di entrambi li dobbiamo collegare poi al regolatore quello che ho preso col display useremo questo e adesso faccio i collegamenti vedete che ci sono rispettivamente il B- e il B- da questa parte dopo il progetto è di fatto completato so che è brutto magari da presentare potrei farci una scatoletta con la stampante 3D ma intanto è la prima volta che ne faccio uno e voglio vedere se funziona come previsto dopo di che lo testiamo vediamo la reale capacità complessiva e vediamo come va allora in realtà è passato un po' di tempo dall'ultima clip perché ho avuto qualche problema ho avuto dei problemi perché le tensioni dei vari componenti che ho acquistato in realtà non sono compatibili tra loro e mi era venuta l'idea adesso di collegare i due BMS insieme e poi collegarli successivamente a dei regolatori di tensione per poter regolare le tensioni aumentava un po' l'elettronica ma in teoria doveva funzionare tutto la realtà è che non appena ho collegato i due BMS insieme guardate cosa è successo ha scaldato talmente tanto che si è fuso qua il PCB vedete che è venuto fuori il rame è uscito fuori per il calore sia l'uno che l'altro quindi non appena io li metto insieme anzi questo si è proprio spaccato quindi è da buttare e quindi alla fine dovrei dovrei comprare un BMS a quattro celle a cinque non ne ho nessuna voglia quindi cambio un po' il progetto utilizzo una una cella unica in serie praticamente metto cioè un pacco batterie con quattro celle in serie non faccio paralleli così sono compatibile con questo tipo di elettronica non avrò il bilanciamento però sarà l'occasione per vedere come si comportano queste celle bene allora ho rifatto i collegamenti come vi ho detto quindi ho messo tutte le batterie in serie vedete qua tutti i poli positivi collegati insieme ricordo che i positivi sono quelli con quella specie di piccolo castello che si vede in superficie e qua sono tutti i poli negativi collegati ho collegato quindi da una parte dall'altra i due cavi che arrivano al regolatore di carica e adesso come vedete sto caricando la batteria mi dice 4% mi sembra un po' strano perché era abbastanza carica adesso 5% e comunque la sto caricando vi faccio vedere qui il l'assorbimento vedete che mi sta assorbendo 850 mAh l'ho appena attaccata dopo vedremo quanto va avanti questa carica e quindi adesso quello che faremo è completare la carica dopodiché andremo a scaricarla per vedere l'effettiva capacità dell'intera batteria e volevo aggiungere sì che ho controllato le tensioni delle varie celle prima di collegarle insieme c'erano a due a due erano identiche con una differenza di 4 millivolt quindi era veramente una differenza minima che ho lasciato non l'ho volutamente trascurata perché mi sembra irrisoria vedremo come si comportano nel tempo avete notato forse dalle dallo sfondo che sono in un ambiente diverso questo è il soppalco non so se avete qualcuno avrà visto il mio video in passato del mio soppalco sto finendo di sistemarlo ho costruito questo grosso tavolo è un pallet se guardate su instagram ho messo le foto della costruzione insomma comunque non importa è un vecchio pallet quello con cui mi avevano trasportato i pannelli fotovoltaici l'ho trasformato in questo tavolo vedete ci ho messo anche un supporto sotto questo è un vecchio pc che ho risistemato un po' ho aumentato la rama ho cambiato ho messo un ssd per il sistema operativo poi ci ho messo qua c'è il mio kit un vecchio kit 5 più 1 con un dolby surround con il subwoofer là sotto ci sono le varie casse qua sul coso che sono collegate ad A che è lì dietro qua c'è il router che mi dà la connettività wifi e adesso sto finendo alcune cose c'è questo tavolinetto che ho appena fatto c'è la vernice ancora l'impregnante che è ancora bagnato qua ci andrà l'incisore laser e qui la stampante 3D la porto su così ce l'ho finalmente a portata là ho fatto quella scaffalatura in cui ci ho messo un po' di roba poi sistemerò ulteriormente per chi avesse visto i video precedenti ho aggiunto dei pannelli per terra perché vibravano parecchio quindi ho messo ulteriori pannelli di rinforzo per ridurre la sì per migliorare il trasferimento del peso mentre camminavo e qua sotto c'è un altro ci sono altri pallet anzi è uno solo in realtà diviso in due con cui ho fatto questo voi penserete un mobiletto in realtà sarà un divanetto un divanetto per un progetto che vedrete però in futuro adesso non vi svelerò i segreti dei prossimi video anzi sarà un video abbastanza futuro perché c'è una spesa da farci dietro e non ho non ho la possibilità di farla adesso devo ancora sistemare tutto quell'angolo là mettere delle scaffalature e so che questo non c'entrava niente con la batteria però adesso andiamo a caricarla e poi finiamo il video eccoci dunque siamo arrivati al 100% della carica secondo il mio misuratore qui abbiamo raggiunto la carica ricordate che era al 4% quindi siamo arrivati al 100% secondo questa indicazione in 3 ore e 51 minuti abbiamo caricato 9,68 wattora per un totale di 1890 mAh adesso facciamo il test di scarica con questo attrezzo che avete già visto lo impostiamo potremmo impostarlo a 1 watt come abbiamo fatto con le singole celle e vediamo quanto abbiamo di capacità reale dopodiché direi che possiamo passare alle conclusioni 7237 mAh che dire ragazzi esattamente la metà di quanto mi aspettassi quindi quello che penso io è che questo BMS chiamiamolo BMS se faccia un po' schifo vediamo se 32 watt mi dice la cosa 35 watt mi dice l'altro quindi si i valori sono paragono ho collegato qua l'altro l'altro display perché ovviamente si era spento una volta tagliata la corrente questo dato non mi piace vi dico la verità non è quello che mi aspettavo quindi adesso le ricarico di nuovo e poi faccio un test di scarica bypassando però il BMS così vediamo se il problema è quello non credo siano le batterie perché la capacità che avevamo calcolato all'inizio di ogni singola cella era buona io qua mi aspettavo 3,5,7 7,14 13,14 1000 mAh siamo arrivati a 7,2 non ci siamo proprio adesso quindi continuiamo con le prove e vediamo il da farsi allora voglio fare un altro tentativo perché adesso l'ho messa in ricarica e abbiamo caricato 13.778 milliam per ora in realtà sta caricando ancora leggermente qualcosa ma insomma diciamo che è stracarica quindi voglio rifare un tentativo utilizzando questo regolatore di carica e vedo come va dopodiché decido se fare un test anche senza oppure no raccolgo un po' di dati perché è inutile fare tentativi fare una prova sola non ha senso potrebbero esserci stati degli errori che non ho considerato quindi faccio quest'ultimo test e dopo decido ragazzi sono proprio un pirla come si suol dire stavo sbagliando i calcoli come un dilettante e io calcolavo i miliam per di discarica sui sui 5 volt mentre i dichiarati della capacità della batteria sono sulla tensione della batteria quindi sui 3 volt e i calcoli non mi tornavano ho fatto vari test e stavo impazzendo perché non riuscivo a capire cosa cosa succedesse e in realtà ho solo sbagliato i calcoli magari ve li metto qua in sovraimpressione comunque i 7500 7600 mAh che ottengo di discarica sono più che buoni anzi se andiamo a calcolare un residuo di carica del 20% che è quello che considero come sicurezza diciamo per far vivere a lungo il pacco batterie siamo anche oltre i livelli dichiarati in particolare me li sono scritti qua se no poi mi confondo se noi calcoliamo 4 batterie da 3500 mAh a 3 volt c'è un totale di 42000 mAh ok sui 5 volt diventano 8400 però 8400 se appunto andiamo a a calcolare a calcolare l'80% di carica sfruttabile siamo a 6700 quindi diciamo che il target doveva essere tra i 6700 e 7000 siamo a 7500 quindi direi che in realtà la batteria funziona benissimo non ha nessun problema come funziona bene il regolatore di carica è stato un video un po' tribolato nel senso che ho sbagliato ho sbagliato i componenti che ho comprato li ho presi un po' senza senza pensarci troppo non ho guardato bene le tensioni e quindi non erano compatibili tra di loro e abbiamo comunque un buon pacco batteria una bella bestia adesso proverò a utilizzarla per caricare cellulari eccetera volevo provarla anche col mio portatile con l'usbc però ho paura che non riesca questo questo cosino qui non riesca a tirarmi fuori gli ampere necessari comunque vedremo perché qua nel display mi dice che ha l'uscita o un ampere o 2 2.1 che mi sembrano un po' pochini comunque farò la prova tanto non mi costa niente ho già preso le misure per fare la 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 scatoletta di contenimento quindi fare un prodotto un po' più più decente da vedere e basta ragazzi se vi interessano batterie di questo tipo vi lascio il link qua sotto dalla link affiliazione col codice sconto se vi interessa se non vi interessa non importa non è certo non è certo un problema però almeno so che le batterie che offrono sono di qualità e funzionano molto bene dovete vedere quando ho messo in corto i due bms come si sono praticamente polverizzati le le barre di nickel che c'erano dentro sono diventate incandescenti nel giro di mezzo secondo sono veramente tirano giù una scarica che è difficile da descrivere a parole e niente ragazzi questo è stato un video un po' lungo un po' complicato e ci vediamo al prossimo per nuovi progetti ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.